vivevo a sanremo e professionalmente parlando non era una piazza molto stimolante l'alternativa sarebbe stata a muovermi in una città più grande tipo milano roma anche lì il salto non sarebbe stato così grande quindi ho deciso di cambiare completamente vita un mio amico si era trasferito a dubai sono venuto una settimana a vedere mi era piaciuto quindi ho detto sai cos'è l'anno prossimo io vivrò qua ambientarmi non è stato facile come tanti italiani come tanti stranieri ho fatto l'errore di pensare che venendo qua automaticamente avrei avuto successo sarei diventato ricco dopo due mesi non è successo i primi mesi ero anche sposato e soltanto mia moglie lavorava e io cercavo di fare molte pubbliche relazioni andavo incontrare agenzie andavo incontrare possibili clienti e questo mi ha permesso di lanciarmi nel mondo di dubai come fotografo a livello professionale se hai le capacità se sai crearti giusti contatti è una miniera d'oro tutti i più grandi clienti si concentrano in una striscia di pochi chilometri e una volta che tu riesci a raggiungere quel certo livello di clientela la strada davanti a te è infinita penso che nei prossimi dieci anni dubai aumenterà ancora il distacco che ha rispetto alle altre città a livello di vivibilità di sicurezza di opportunità di lavoro dubai è stata una delle prime città al mondo se non la prima città al mondo a ricreare una situazione di normalità dopo il covid la cosa bella di quando si vive in un posto in cui non c'è democrazia è che le decisioni non vengono prese per essere popolari le decisioni vengono prese per essere efficienti vado a eventi sono andato all'opera o shooting siamo in un albergo in questo momento in cui ci sono tantissime persone attorno a noi un'altra delle cose che mi piacciono di dubai è che puoi venire qui e non fare soltanto una cosa io ovviamente sono partito come fotografo e videomaker ma sono finito anche a fare il modello o brand che mi pagano per usare i loro orologi per mettere i loro accessori sulla mia macchina per usare i loro vestiti sono stato nominato da esquire la persona meglio vestita nel middle east e questo è un grande traguardo perché se penso che quando ero in italia ero grasso ero fuori forma mi vestivo male poi sono venuto qui sono diventato un riferimento in eleganza sono sulle riviste dubai mi ha anche permesso di riconoscere la mia seconda più grande passione l'off road quando mi sono trasferito ho cominciato a vedere queste dune questi paesaggi bellissimi questi tramonti un giorno quando finalmente potevo permettermelo ho comprato un fuoristrada ho cominciato a guidare nel deserto pian piano alzando sempre il livello delle mie guide andando su dune sempre più alte in posti sempre più remoti e ho iniziato anche a documentare le mie avventure in maniera simpatica facendo dei video un po spiritosi però essendo fotografo e videomaker ho creato dei bei contenuti e questo mi ha permesso di diventare famoso nella comunità off road locale e quindi poi molti brand si sono fatti avanti e dandomi parti per la macchina e dandomi vestiti quindi anche questa visibilità data da instagram mi ha permesso di sviluppare questa passione senza dover spendere tantissimi soldi e adesso non riuscirei a immaginare di trasferirmi in un posto in cui non posso passare il weekend nel deserto